Si mette le extension e rimane calva. Un'attrice inglese di nome Jodie ha avuto la brillante idea di cambiare drasticamente il suo look ricorrendo alle extensions per capelli, in modo da apparire chissà forse più sexy e bella, ma con suo sommo dispiacere si è dovuta ricredere e optare per un altro look, molto più estremo rispetto a quello che voleva. Il suo parrucchiere di fiducia infatti le ha applicato alcune ciocche di capelli sintetici ai suoi, attaccandole non con la colla ma con la cera. Forse per poca professionalità, forse per inesperienza, l'air dresser in questione non ha calcolato che con il calore la cera si sarebbe sciolta ed è proprio ciò che è successo a Jodie. Qualche giorno dopo ha preso la piastra per sistemarsi i capelli ed è iniziato il suo peggiore incubo, i capelli finti si sono letteralmente fusi con quelli naturali a causa della cera. Jodie ha tentato di staccarli ma sono venute via intere parti di capelli lasciando la donna calva a chiazze. Alla fine è stata costretta a rasarsi a zero per permettere alla sua capigliatura di ricrescere in modo sano. Avrà capito la lezione che è meglio essere naturali piuttosto che artefatte? A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti.